Sì, Italia X31, poi mi ripeterai, sì, ciao, buongiorno, buonasera, anzi, sono Italia Venezia 3 XYC, sono Franco, trasmetto dalla città di Udine, avanti. Ciao Franco, buonasera, grazie, Italia Xilofono 1, Charlie Chilo November, Charlie Chilo November, il nome dell'operatore è Cristian e sono sulla collina di Aosta, QSL? Ah, perfetto, Italia X31, Charlie Chilo November, Italia Venezia 3 XYC, perfetto, Cristian, ti ascolto ben ora, 5,9, senza nessun problema, un po' di QSB stasera, però, insomma, va bene, dai. Beh, tieni conto che io sto andando con lo Shegu G90, 15 Watt e la verticale della macchina che è montata qui provvisoriamente sulla veranda, tanto per fare due QSO, a te ancora? Sì, 5,9, bello spaccato, bene, ti sento molto, molto bene, ti ricevo alla grande, oserei dire, in condizione di lavoro, stai andando proprio alla grande. Io ho un dipolo, ho la cornuta della profistela, ecco, forse viene più semplice, l'antenna 10, 20, 15, 40, non so se la conosci, è più o meno 500 Watt. Sì, ho presente l'installazione, ho presente l'antenna, direi che sta facendo un ottimo lavoro, eh. Bene, Franco, io ti ringrazio tantissimo per il contatto, eri arrivato molto forte, ti ho chiesto la QSY perché mi faceva piacere portare a casa il QSO con te. Ti ringrazio e ti auguro buona serata e buoni DX qui in ventri metri. India X-Ray 1, Charlie Chilo November ha trasmesso. Perfetto, Cristian, grazie, grazie a te per l'attenzione, faccia una buona serata, buoni DX, buon divertimento. Italia X-Ray 1, Charlie Chilo November, Italia Venezia 3, XYC, QSL come vuoi, vuoi via EQSL o diretta o via bureau, come è più piacere se ti interessa, non ce ne sto provendo. Ciao Cristian, un abbraccio, buona serata. No, lo scambio mi fa molto piacere, diretta perché non ho più il bureau. Grazie, ciao 73, buona serata. Ciao, un whisky duro.